Roberto insegna ai nostri microfoni, si è arrivato da poche ore qui a Cascia una trattativa lunghissima. Noi sappiamo da indiscrezioni che c'è stato subito il tuo placet, il tuo ok a vestire questa maglia, qualche problemino sulla formula, insomma è stata un po' trepidante come l'hai vissuta questa attesa. Sì, innanzitutto buonasera a tutti, grazie. È stata una trattativa, dico la verità, avevo un po' di paura perché ci tenevo molto a venire qui a Benevento. Come mai? Ci tenevi così tanto a vestire questa maglia? Sicuramente avrai sentito parlare di questo pubblico caloroso, una città, una società importante? Sì, è una città che mi è sempre piaciuta, sia da quando sono iniziato a giocare, è una città molto importante, è una città dove vivono per questo, per il calcio e per il Benevento calcio. Io sono fortunato quest'anno ad indossare questa maglia. Sai un esterno un po' che rientra nelle corde del modulo di Bucchi, nel suo 4-3-3. Noi ieri abbiamo un po' sentito Cristian Maggio e abbiamo chiesto le differenze con tuo fratello, che non chiedo a te, però lui ha detto di te che sei uno che spazia molto, occupa un po' tutto il campo. Sì, innanzitutto ringrazio Cristian per questo complimento, io sono un esterno nel 4-3-3, mi piace giocare largo per rientrare, sia per fare la giocata per il compagno o per tirare verso la porta. Sono a disposizione del mister, vediamo se mi darà spazio e dove mi farà giocare. Impressioni pochissimo tempo, per carità, però ti sei fatto già un'idea di questo gruppo? No, è un bellissimo gruppo, già detto tu, sono arrivato poche ore fa, però è un bellissimo gruppo, tutti giovani e abbiamo tanta voglia di fare bene. Allora, fisicamente comunque ti sei preparato, col Napoli sei pronto già da domani a iniziare, non dico all'amichevole, ma a iniziare a metterti a disposizione di mister Bucchi? Sì, io in verità lo ero già oggi, solo che sono arrivato, ho fatto un viaggio molto stressante, quindi hanno preferito così, ma va bene così, però io oggi sono pronto. Vieni dal Parma, una promozione, un po' come è capitato lo scorso anno al Benevento. Che progetto è, secondo te, anche un po' nel vedere sulla carta i nomi di questa squadra, dove può arrivare il Benevento conoscendo molto bene la Serie B, perché insomma ti stai facendo la tua esperienza in questa categoria? Sì, l'anno scorso è stato un campionato bellissimo, dove abbiamo avuto delle grandissime soddisfazioni di vincere il campionato. Se guardo il Benevento sulla carta, sicuramente siamo più forti del Parma, però vediamo partita dopo partita e vediamo se riusciamo a portare a casa questo campionato. Cosa ti senti di dire ai tifosi? Dai il tuo messaggio rivolto ai tifosi che hanno atteso anche loro il tuo arrivo, insomma è stata un po' una telenovela, io ho fatto un po' una battuta, ho detto Cristiano Ronaldo, sembra Cristiano Ronaldo alla Juve, con le dovute differenze, per carità, però insomma l'attesa è stata estenuante. Sì, dico di venire sempre allo stadio e noi ci suderemo la maglia per portare a casa un obiettivo.